Ti senti stressato perché devi sempre fare tutto tu e i tuoi collaboratori sembrano un peso più che una risorsa? In agenzia le cose non vengono fatte come vorresti anche su questioni che avevi dato ormai per scontate? Ti sembra che le persone non si prendano responsabilità e fai fatica a fidarti di loro? Tutti questi problemi hanno una matrice comune, si chiama capacità di delega. Vuoi imparare a delegare alle persone giuste? Lascia i tuoi dati e verrai ricontattato da un consulente per approfondire i tuoi bisogni.